La situazione per quanto riguarda la donazione di sangue di Gorizia come sta andando? Diciamo che stiamo seguendo il trend dello scorso anno, del 2011. Sono buoni anche i dati, sono 873 le donazioni dall'inizio dell'anno al 30 del 9 con oltre 40 donatori nuovi, quindi direi che possiamo dirci soddisfatti. Soddisfazione è questo perché i goriziani rispondono all'appello? Rispondono all'appello, sono diventate un po' più pigri se mi permettete di dirlo, però ci rendiamo conto che anche la situazione economica piuttosto pesante pesa anche sul volontariato, però sappiamo che il cuore dei goriziani è sempre molto grande quindi continueranno a rispondere con ottimismo. Continua a gonfie vele anche il rapporto con la vicina nuova Gorizia? Sì, continua, ci stiamo già mettendo in contatto per l'edizione 2013 della donazione trasfrontaliera che vorremmo e speriamo, siamo fiduciosi di poter allargare anche alla Francia e alla Spagna. Perché donare il sangue? Perché doniamo la vita, quindi penso che sia uno dei gesti più importanti che non costano e soprattutto danno una grandissima soddisfazione.